Giorno a tutti ragazzi, come va? Spero tutto bene e benvenuti in questo nuovo video di Action sul canale. Oggi andiamo a reagire al trailer ufficiale di The Marvels, il nuovo film con protagoniste Capitan Marvel, Miss Marvel e Monica Rambeau. E niente, iniziamo! No air, no space. Capitan Marvel. The Annihilator. You took everything from me. And now I'm returning in favor. Monica Rambeau. Scusate per il rumore che ci sono fuori, ma ci sono i cani e non ci posso parlare. What is happening to me? She continued our light-based powers, so we switch places whenever we use them. You can absorb light. I can see it. And Kamala. Who's Kamala? Hi. She could turn light into physical matter, which I have never heard of. I could totally show you. No! Two? Three! 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 Two! Spring Rivera. Three! I'm not mgdRD. Quella di libertà, quella lì, Argen. Sono tipo i Ronan. Ronan, quello dei guardiani della classe. È un marzo. Grande gus. Grande gus. So, il nuovo costume non mi convince, è un po' bruttino. E niente, trailer carino, il film non è che mi convince, il personaggio di Carol Danvers mi sta antipatico, ma la stessa attrice in realtà mi sta antipatica. E niente, boh, sta molto di cine panettone galattico. Cioè, non è ai livelli di guardiani della classe, però guardiani della classe è qualcosa di studiato, divertente, bello. Questa sembra un po' una parodia, diciamo che il personaggio più comico del film sarà al 100% Miss Marvel. Perché, tranne essere al più giovane del gruppo, è quindi quella che si emoziona più facilmente, è stata reclutata da Avengers, quindi tutta quella roba è anche un po' la spalla comica. E niente, vediamo cosa uscirà da questo secondo capitolo di Capitan Marvel e cosa ci riuscirà a dare. Soprattutto quando sarà sviluppato, se prima di Secret Invasion o dopo. E niente, chiudiamo il video così oggi. Bye nerd!